La regione che nel triennio ha visto aumentare in misura maggiore per turismo sia arrivi che presenza è stata il Piemonte insieme alla Valle d'Aosta e la Liguria. E guardando questi dati che è ancora più senso pensare a delle specializzazioni sul turismo per quanto riguarda il lavoro dei più giovani. E' in quest'ottica che sono stati pensati il Master in Economia e Innovazione, Comunicazione ed Accoglienza per l'Impresa Turistica e l'Assegnazione delle Otto Borse di Studio. Un'idea che prosegue grazie alla Fondazione Solida e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che ha consegnato nella Sala del Broletto le borse di studio sul turismo. Il Master è stato organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università del Piemonte Orientale insieme a LVG Group, società di consulenza nel settore dell'accoglienza turistica e dalla Fondazione Slala. Il Master mira a formare persone in grado di lavorare in un'impresa turistica, è un Master di Economia, è un Master che cerca di dare competenze molto specifiche, molto tecniche e di livello elevato. Il turismo oggi richiede molte figure che abbiano queste capacità di punta, per quanto sia un settore considerato tradizionale dove lavorano persone considerate e magari scarsamente qualificate, in realtà a tutti i livelli servono molte capacità, serve conoscere l'economia. Abbiamo bisogno di formare operatori, imprese e professionisti grazie alla collaborazione con l'Università del Piemonte Orientale, proprio per avere figure che siano altamente professionalizzanti e per poter valorizzare al meglio non soltanto la nostra provincia, ma un segmento importante dell'economia provinciale italiana. Sono iniziative che vanno veramente a favore del territorio perché consentono di incrementare il turismo, di far conoscere Alessandria, di far conoscere i bellissimi territori alessandrini anche a persone che ora non lo conoscono.